Il primo stralcio della nuova darsena energetica a grandi masse, o come è stata ribattezzata in tempi più recenti, Mare Nostrum. Sembra essere quello l'approdo naturale per Lab che dovrebbe nascere a Civitavecchia, a supporto dell'impianto eolico offshore e nel quale dovrebbero sorgere le attività che avrebbero la reale ricaduta occupazionale. Andando a leggere le caratteristiche tecniche indicate dal bando emanato dal Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica, che concede un mese di tempo alle autorità portuali per presentare le loro manifestazioni di interesse con tanto di elaborati tecnici, emerge che il porto attuale non sarebbe assolutamente in grado al momento di rispondere alle caratteristiche richieste. Pochissime delle banchine attualmente presenti hanno la lunghezza e il pescaggio necessario per poter far fronte a quanto previsto dal Ministero. Potrebbero essere la 23 e la 24, ma sono entrambe giustamente destinate al traffico commerciale, quello che peraltro ha perso maggiormente colpi negli ultimi 20 anni e che deve assolutamente essere rilanciato. L'altra alternativa riguarda la banchina Enel. Abbiamo già visto come la SPA Energetica dovrà decidere cosa fare di quel pontile nel momento in cui non arriveranno più le carboniere. Peraltro di mercantili in verità non se ne vede l'ombra anche adesso, essendo l'approdo vuoto da parecchie settimane, prendendo a spunto quanto programmato nell'analoga esperienza di La Spezia, dove era operante un'altra centrale a carbone, abbiamo azzardato l'ipotesi che quella banchina possa essere destinata alla cantieristica, in particolare al refitting, ovvero ai servizi di manutenzione alle navi da crociera, che a Civitavecchia, primo porto italiano e secondo nel Mediterraneo, per quanto attiene il Cruis, avrebbe sicuramente un senso e un significato, dando oltretutto centinaia di posti di lavoro nel settore metalmeccanico, ovvero quello maggiormente colpito dalla chiusura della centrale a carbone. Tutto dipende da Enel, che finora non ha ancora chiarito le sue reali intenzioni su Civitavecchia, fatta eccezione per gli interventi sul fotovoltaico e le batterie. Ma qualora l'azienda energetica non fosse interessata alla cantieristica, quella di entrare nel business per lab connesso all'eolico potrebbe essere un'altra soluzione. L'importante è che la politica riesca ad avere una risposta chiara in tempi brevi, perché i giorni passano e il 18 maggio, giorno nel quale scade il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si avvicina sempre di più. E soprattutto perché la realizzazione, anche parziale, della darsena energetica a grandi masse serviranno sicuramente tanti, tantissimi soldi e tanto, tantissimo tempo, considerato il prevedibile lunghissimo iter autorizzativo. Tutte cose alle quali la politica avrebbe dovuto pensare per tempo, speriamo che lo abbia fatto.